Il Napoli di Rafa Benitez era al Manuzzi, ospite del Cesena, è andata così. Da Caglihon, prova a poggiare il gioco su Calaio, la girata di Calaio, la parata, Caglihon arriva con un attimo di ritardo, la copertura di Renzetti, altra occasione per il Napoli che ha sfiorato il pareggio, ora Bariti prova a tenere vivo il pallone. Romano, pensa al tiro, Romano, ottima conclusione con la palla che scende. Calaio va in porta, Campagnolo in due tempi, Calaio, punta a volta, il cross per Novotny, sottomisura Novotny, trova ancora Campagnolo, insuperabile, ancora Donadello, dentro Calaio, fuori il gioco, ha alzato la bandierina. Arriva Mesto che carica il destro, tiro forte di Mesto. Raddoppiato da Rigoni, prova a passare, numero di Caglihon che va giù, calcio di rigore. Caglihon, Campagnolo, parla anche questa, neutralizza il portiere del Cesena, il rigore dello Spagnolo.